Ehi ragazzi, in un nuovo video, oggi parleremo di BCA versus EA, quindi amminoacidi ramificati, amminoacidi essenziali, quali utilizzare, perché utilizzare, insomma, cerchiamo di fare un po' il punto della situazione sull'argomento. Prima di iniziare vi ricordo sempre che potete trovare tanti altri video inediti sul nostro portale RhinoNation, quindi tanti contenuti esclusivi e potete soprattutto trovare dai nostri logbook, quindi quello che facciamo dal punto di vista di alimentazione, allenamento, integrazione. Io, Giorgio e i nostri atleti in preparazione, quindi potete vedere da un punto di vista pratico come viene condotta la preparazione agonistica. Avete tutte le informazioni, potete intervenire, fare domande, insomma, sta là per voi, quindi ci vediamo l'altro del link qua sotto in descrizione. Partiamo col video. Allora, amminoacidi essenziali e ramificati, sostanzialmente di che cosa si tratta? Sono amminoacidi in forma libera che vengono integrati. Ora, gli amminoacidi ramificati sono uno specifico 3, ossia leucina, isoleucina e valina, mentre gli essenziali sono in realtà commercializzati con formulazioni differenti, nel senso percentuali diverse dei diversi amminoacidi, però sostanzialmente sono tutti gli amminoacidi essenziali affinché avvenga la sintesi proteica, la proteosintesi. Quindi di base ci troviamo già di fronte a due elementi dispari, sostanzialmente. Ora, come vi è suggerito l'utilizzo? Allora, partiamo dagli ramificati. Normalmente si suggerisce di utilizzare gli amminoacidi per migliorare il processo di recupero e favorire la proteosintesi, quindi la sintesi muscolare. Questo soprattutto è dovuto alla leucina, che è un amminoacido che va a intervenire su un meccanismo antoridipendente, massimizzando e attivando questo processo di proteosintesi. Ora, il discorso per quanto riguarda la leucina fa sì che molte formulazioni di amminoacidi ramificati sono molto sproporzionate alla leucina. Ora, la formulazione classica è un rapporto 2-1-1, ossia 2 grammi di leucina per ogni grammo di isoleucina e valina, mentre ci sono formulazioni che arrivano a 4-1-1, 8-1-1, 12-1-1, quindi praticamente quasi leucina pura. Ora, benissimo, quindi già da questo capiamo come l'importanza dell'utilizzo dei ramificati si sia presto orientata verso, per l'appunto, la leucina. Il problema principale dal mio punto di vista è questo. Ora, da un lato l'integrazione di una quarantina di grammi di whey, che può essere un post-workout, che può essere un pasto, eccetera, già contiene il quantitivo di leucina necessaria per attivare questo processo antoridipendente. Quindi, già con questo, leucina ulteriore, adizionata, aggiunta, sostanzialmente non serve. E questo è vero anche nella maggior parte dei casi di pasti con una fonte alimentare proteica, nobile, quindi un pasto con 200-250 grammi di pollo, un pasto con un tot di carne rossa, un pasto col pesce, insomma, generalmente il quantitativo di leucina necessario per attivare questo processo di proteosintesi è garantito. Quindi aggiungere le BCA a parte non ci dà ulteriori vantaggi. L'utilizzo combinato con un altro pasto proteico in generale non è strettamente necessario. Molti invece lo utilizzano in situazioni di digiuno, di fasting, o quando non mangiamo da un totto come spuntini, eccetera, proprio per dare questi input di proteosintesi continui. Ora, se anche è vero che comunque l'amminoacidemia, quindi diciamo il turnover di amminoacidi nel torrente ematico ha una durata di circa 8 ore, quindi meno male ce ne stanno sempre un po' in giro, in fase di digiuno un po' prolungato, quando questo livello tende ad abbassarsi, i ramificati non sono strettamente necessari perché se è vero che vado a stimolare la proteosintesi è anche vero che soltanto con 3 degli amminoacidi necessari per far sì che essa avvenga, essa non avverrà sostanzialmente, mi servono, come abbiamo detto, tutti gli amminoacidi essenziali. Quindi da questo punto di vista ha molto più senso intervenire con un'assunzione di essenziali e su questo ritorniamo tra un attimo. Un altro caso e ambito in cui si consiglia l'utilizzo dei ramificati è quello per favorire i processi di recupero muscolare, in particolare di evitare il catabolismo. Quindi l'idea di base qual è? Quella di andare a integrare con dei ramificati, in questo modo il nostro corpo se anche deve bruciare del tessuto muscolare oppure andare a ricercare del glicogeno perché il corpo ricerca il glicogeno, utilizza gli amminoacidi, togliendo il gruppo amminico e convertendolo in glucosio, quindi se anche ne ha bisogno gli diamo noi direttamente gli ramificati, quindi da questo punto di vista si sfoga tra virgolette su quelli. E da questo punto di vista personalmente non ne trovo grande senso. Da una parte se voglio dargli, se voglio alla fine che lui utilizzi dei glucidi, mi conviene dargli direttamente dei glucidi, quindi non vedo perché passare per un utilizzo di un materiale amminoacidico. D'altro canto se per esempio non ha neanche senso in contesti di chetogenica e locardo, perché stiamo comunque dando un input al corpo di utilizzare dei glucidi, quindi comunque anche da questo punto di vista la creatogenica prevede un basso apporto proteico al minoacidico, un alto apporto di grassi proprio perché il corpo non deve continuare a ricercare carboidrati e se gli do una valanga di proteine e minoacidi, quello comunque tornerà sempre a cercare il glicosio in un modo o nell'altro. Quindi sinceramente non ne trovo tanto il senso. Se invece ragiono da un punto di vista più prettamente vario-romonale, quindi un cosiddetto digiuno metabolico, quindi delle fasi di forte emissione di carboidrati, delle fasi con carboidrati molto bassi nell'arco della giornata, anche per favorire lo shift di utilizzo del substrato energetico, all'altro in questo caso trovo molto più sensato l'utilizzo di amminoacidi essenziali in una buona quantità, perché di nuovo fornisco al mio corpo comunque un quantitivo, un pool di amminoacidi molto più completo. Quindi non ne trovo l'utilizzo. In generale, personalmente, non credo ci siano contesti per cui vale l'utilizzo dei ramificati. Un contesto che però può essere molto più sensato con l'utilizzo di leucina o anche in questo caso di nuovo di amminoacidi completi, è quello di un soggetto, magari vegano, che ha un apporto proteico da un punto di vista qualitativo abbastanza basso. Allora in questo caso vado a fornire io degli amminoacidi che poi nello specifico mi possono servire e possono incentivare la protosintesi, perché se abbiamo fatto bene un discorso prima che già mangiare un pasto con del polo, della carne rossa in generale, mi permette di assicurare quella mia dose di leucina necessaria per attivare la protosintesi, così potrebbe non essere quando vado a mangiare delle verdure o delle uomini. Ok, ciò detto, passiamo agli essenziali. Quando utilizzarli, perché utilizzarli? Ora, un primo contesto in cui io sono un sostenitore dell'utilizzo degli essenziali è nella peri-workout nutrition e in particolare nell'intra-workout, perché se anche nel pre-workout mangio magari un'ora e mezza prima, utilizzo delle proteine isolate o idrolizzate, io personalmente utilizzo le Evopep, quindi mi garantisco comunque una veloce digeribilità dei nutrienti, ecco, nel caso di un intra-workout, io logicamente non posso appesatermi troppo, non voglio pesare troppo sul tratto gastrointestinale, perché questo vorrebbe dire andare a richiamare sangue il loco e non permettere una saturazione delle fibre che io realmente voglio, e per questo faccio riferimento al video sull'FDFS di cui ho parlato. Quindi, in questo caso, nell'intra-workout, la soluzione ideale è quella di utilizzare o amminoacidi in forma libera, o in questo caso di nuovo essenziali, perché voglio garantirmi un pool amminoacidico completo, e voglio che tutti questi amminoacidi vengano inseriti e schiaffati dentro il muscolo affinché si crei in questo modo questa, ci sia del materiale strutturale quando i processi di recupero avverranno, e in secondo luogo posso utilizzare dei peptidi, quindi proteine idrolizzate a un'alta percentuale peptidica, come le Pepto Pro, di nuovo le Evopep, le Alphatec, sono tutte ottime soluzioni. Sostanzialmente di che cosa stiamo parlando? I D e i tripeptidi sono delle forme di 2 o 3 amminoacidi che hanno un carriere d'assimilazione molto più veloce rispetto agli amminoacidi stessi in forma libera, quindi sostanzialmente bypassano lo stomaco. Ora, le proteine idrolizzate e il sielo del latte hanno una scarsa percentuale di D e i tripeptidi, è abbastanza bassa, quindi di fatto sempre di proteine stiamo parlando. Così non è invece per queste proteine di una formulazione molto più tecnica, come per esempio le Evopep e le Alphatec, che hanno una percentuale molto molto più grande, un alto, un carriere percentuale molto più ampia, un alto grado di idrolisi, insomma sono soluzioni che vanno bene anche per il nostro intra-workout. Però di nuovo, io personalmente utilizzo amminoacidi in forma libera o gli amminodex, insomma un pool amminoacidico, che peraltro so che è ben ponderato, perché il problema è anche questo, che non tutti i pool amminoacidici sono uguali dal punto di vista di equilibrio dei diversi amminoacidi. Quindi intra-workout, in alcuni casi potrei dire post-workout, però di nuovo, ritornando al video FDFS, quindi sul metodo di allenamento, di saturazione delle fibre, sul fatto di voler tornare prima a un basso livello di cortisolo, per poi poter mangiare, io tranquillamente post-workout utilizzo anche in questo caso, le Evopep, proteine idrolizzate, con cui mi trovo molto bene, o comunque delle isofuge, delle proteine isolate, che in questo contesto, a mezz'oretta dall'allenamento, riesco a digerire assolutamente bene. Quindi questo è un primo contesto. Il secondo contesto in cui vado a utilizzare, suggerire l'utilizzo degli essenziali, è in periodi pre-contest, andato a scalare la quota proteica. Che cosa vuol dire? Ora, il primo punto su cui ragionare è che non dovete fare paragoni su a quante proteine corrispondono totte essenziali. Cioè molto spesso viene chiesto a 10 grammi di essenziali quante proteine corrispondono. No, 10 grammi di essenziali sono 10 grammi di essenziali. Vengono utilizzate in contesti specifici per esigenze specifiche. Quindi non state a fare paragoni o contesti. Però una cosa che si può fare in contesti di pre-contest, soprattutto per le signorine, e che mi piace fare personalmente, mi sono sempre provate bene, è proprio quello di andare a scalare la quota proteica in favore di un alto apporto di essenziali. Come detto, gli essenziali vengono utilizzati per creare del tessuto muscolare, stimolano la proteosintesi, quindi mantengono anche l'eventuale catabolismo nell'ultima fase di pre-contest. Io ho due vantaggi importanti. Il primo riguarda la digeribilità, nel senso che non vado a pesantire lo stomaco, che soprattutto se voglio avere un'ottima beat section sul palco deve essere curato molto bene, non deve essere pesantito, non deve avere bloating, eccetera. E in secondo luogo vado a diminuire comunque l'input calorico dell'alimentazione. Quindi quello che normalmente vado a fare è, magari posso anche aumentare i carboidrati, posso sfruttare questa cosa per aumentare i carboidrati, però in questo caso dobbiamo vedere il caso specifico, quindi non è sempre detto. Però un gioco che si può fare è quello di tolgo 50 grammi di proteine e inserisco 25 grammi di amminoacidi essenziali, magari in uno spuntino, o 10 grammi in 10 grammi in due pasti, qualcosa del genere. Quindi vado a diminuire e aggiungo la metà del quantità di proteine in amminoacidi essenziali, non perché gli amminoacidi essenziali corrispondano alla metà di proteine, ma perché possiamo dire che generalmente l'input anabolico che io voglio utilizzare come scopo è sufficiente utilizzare questa dose sostanzialmente di essenziali, quindi la metà del quantitativo proteico. Però, ripeto, non c'è una corrispondenza da un punto di vista nutrizionale, questo deve essere ben chiaro. Ora, questi sono sostanzialmente gli utilizzi che io faccio personalmente degli essenziali, il resto non mi piace accompagnare tra i pasti, durante i pasti, ogni aggiunta ai pasti, se non c'è un'esigenza specifica. I ramificati sostanzialmente non li utilizzo, non ne trovo un senso, comunque preferirei in ogni caso l'utilizzo degli essenziali. E questo è, scrivete qua sotto nei commenti dubbi, osservazioni, chiarimenti, sarò ben lieto di rispondere a tutti quanti. E detto questo, ci vediamo al prossimo video.